Cinco anni a passato, il presentatore di Spotlight, Glenn, ad un dramma che mi scrive un gospel e sopra io dovevo organizzare un festival, una villa, un tour artista locale, dovevo puntare un tour artista locale per gravere un gospel, come si chiama gospel, per il festival non camassa vai dole, per la canzone che si andasse nel mio corso. Io sto parlando di due mandamenti, tanto se non si chiama la vita da Hopi, Hopi ma sui, e dove si stima un Dio sa di tutto il coso, e dove si stima un volumano, ma stante come vensi, come si chiama la maniera romana. Mutto a me brano, ma stante come vensi, come si chiama la maniera romana, la maniera romana. e con i nostri amici e l'altro se faccio solo io con i nostri amici e l'altro e l'altro imita che che il mandamento di più grande e l'altro se faccio solo come i nostri amici e l'altro come i nostri amici e le dici e le dici non è che i nostri amici e le dici e l'altro è non ti chiamo si può si vai mi patter il marco ok 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 è un progetto si vai mi patter il marco Mirova che persona, nabolegis, off naborreggis Immaginavo messi da balrutmano da vattacitai Anteco vuole amore sombra Questa fredica un'occhio di signor su palabra Mi besti chiede a luke Eta fredica Eta un mio amore Eta sin que le dejo al trato Eta un besti chiede a luke Eta un miei amore Eta un miei amore Un'un'un'un'un'un'un'un'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un'u'un Grazie per la visione 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 Grazie per la visione